Ripeti il titolo, adesso fai sentire? Adesso faccio sentire una canzone che avrà 12 barre di strova Le 8 di ritornando, dove si ripeterà questa? Sì, 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 sì Applausi, 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 ben Applausi, 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 ben Mangiavo l'incert schnell e aperta nel على sino Tornavo a casa e vomitavo in mezzo al giardino Non ho messo un giorno, ti van di rispicare Non ho mai fatto grandi successi in generale Desi��가 forte, right E se attaccare le donne qua abbiamo 12 barre di stroda. Quindi, abbiamo visto che non è vera la regola dell'esempio, ma questo è un esempio. Andiamo insieme!